ottobre il primo giorno di scuola 17 lunedì oggi primo giorno di scuola passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna mia madre mi condusse questa mattina alla sezione baretti a farmi iscrivere per la terza elementare io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia tutte le strade brulicavano di ragazzi le due botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini cartelle e quaderni e davanti alla scuola si accalcava tanta gente che il vidello e la guardia civica durava in fatica a tenere sgombra la porta vicino alla porta mi senti toccare una spalla era il mio maestro della seconda sempre allegro con i suoi capelli rossi arruffati che mi disse dunque enrico siamo separati per sempre io lo sapevo bene eppure mi fecero pena quelle parole entrammo a stento signore e signori donne del popolo operai ufficiali nonne serve tutti coi ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra empivan la stanza d'entrata e le scale facendo un zio che pareva ad entrare in un teatro lo rividi con piacere quel grande camerone a terreno con le porte delle sette classi dove passai per tre anni quasi tutti i giorni era folla le maestre andavano e venivano la mia maestra della superiore mi salutò di sulla porta della classe enrico tu vai al piano di sopra quest'anno non ti vedrò nemmeno più passare e mi guardò con tristezza il direttore aveva intorno delle donne tutte arruffate perché non c'era più posto per i loro figlioli e mi parve che anche egli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato trovai dei ragazzi cresciuti ingrassati al pian terreno dove saranno già fatte le ripartizioni c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come sumarelli bisognava che li tirassero dentro a forza e alcuni scappavano dai banchi altri al vedere andare via i parenti si mettevano a piangere e questi dovevano tornare indietro a consolarli o a ripigliarseli e le maestre si disperavano il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra del cati io dal maestro per boni su al primo piano alle 10 eravamo tutti in classe 54 appena 15 o 16 dei miei compagni della seconda fra i quali dei rossi quello che ha sempre il primo premio mi parve così piccola e triste la scuola pensando ai boschi alle montagne dove passai l'estate anche ripensavo al mio maestro di seconda così buono che rideva sempre con noi e piccolo che pareva un nostro compagno e mi rincresceva di non vederlo più là coi suoi capelli rossi arruffati il nostro maestro è alto senza barba coi capelli grigi e lunghi e ha una ruga dritta sulla fronte ha una voce grossa e ci guarda tutti fisso l'un dopo l'altro come per leggersi dentro e non ride mai io dicevo tra me ecco il primo giorno ancora nove mesi quanti lavori quanti esami mensili quante fatiche avevo proprio bisogno di trovare mia madre all'uscita e corsi a baciarle la mano essa mi disse coraggio enrico studieremo insieme e tornai a casa contento ma non ho più il mio maestro con quel sorriso buono e allegro e non mi maestro 18 martedì anche il mio nuovo maestro mi piace dopo questa mattina durante l'entrata mentre egli era già seduto al suo posto si affacciava di tanto in tanto alla porta della classe qualcuno dei suoi scolari dell'anno scorso per salutarlo si affacciavano passando e lo salutavano buongiorno signor maestro buongiorno signor perboni alcuni entravano gli toccavano la mano e scappavano si vedeva che gli volevano bene e che avrebbero voluto tornare con lui e gli rispondeva buongiorno stringeva le mani che gli porgevano ma non guardava nessuno ad ogni saluto rimaneva serio con la sua ruga dritta sulla fronte voltato verso la finestra e guardava il tetto della casa di faccia e invece di rallegrarsi di quei saluti pareva che ne soffrisse poi guardava noi l'uno dopo l'altro attento dettando discese a passeggiare in mezzo ai banchi e visto un ragazzo che aveva il viso tutto rosso di bollicine smise di dettare gli prese il viso fra le mani e lo guardò poi gli domandò che cosa aveva e gli posò una mano sulla fronte per sentirsi era calda in quel mentre un ragazzo dietro di lui si rizzò sul banco e si mise a fare la marionetta e gli si voltò tutto a un tratto il ragazzo risedette da un colpo e restò lì col capo basso ad aspettare il castigo il maestro gli pose una mano sul capo e gli disse non farlo più nient'altro tornò al tavolino e finì di dettare finito di dettare ci guardò un momento in silenzio poi disse ad agio ad agio con la sua voce grossa ma buona sentite abbiamo un anno da passare insieme vediamo di passarlo bene studiate e siate buoni io non ho famiglia la mia famiglia siete voi avevo ancora mia madre l'anno scorso mi è morta sono rimasto solo non ho più che voi al mondo non ho più altro affetto altro pensiero che voi voi dovete essere i miei figliuoli io vi voglio bene bisogna che voi vogliate bene a me non voglio aver da punire nessuno mostratemi che siete ragazzi di cuore la nostra scuola sarà una famiglia e voi la mia consolazione e la mia alterezza non vi domando una promessa parole sono certo che nel vostro cuore mi avete già detto di sì e vi ringrazio in quel punto entrò il bedello a dare il finis uscimmo tutti dai banchi zitti zitti il ragazzo che si era rizzato sul banco si accostò al maestro e gli disse con voce tremante signor maestro mi perdoni il maestro lo baciò in fronte e gli disse va figlio al mio una disgrazia 21 venerdì l'anno è cominciato con una disgrazia andando a scuola questa mattina io ripetevo a mio padre quelle parole del maestro quando vedemmo la strada piena di gente che si serrava davanti alla porta della sezione mio padre disse subito una disgrazia l'anno comincia male entrammo a gran fatica il grande camerone era affollato di parenti e di ragazzi che i maestri non riuscivano a tirar nelle classi e tutti erano rivolti verso la stanza del direttore e suddiva dire povero ragazzo povero robetti al di sopra delle teste in fondo alla stanza piena di gente si vedeva l'elmetto ad una guardia civica e la testa calva del direttore poi entrò un signore col cappello alto e tutti dissero è il medico mio padre domandò a un maestro cos'è stato gli è passata la ruota sul piede rispose gli ha rotto il piede disse un altro era un ragazzo della seconda che venendo a scuola per via d'ora grossa e vedendo un bimbo della prima inferiore suggito a sua madre cadere in mezzo alla strada a pochi passi da un omnibus che gli veniva addosso era corso arditamente l'aveva ferrato e messo in salvo ma non essendo stato lesto a ritirare il piede la ruota dell'omnibus gli era passata su è figliuolo di un capitano d'artiglieria mentre ci raccontavano questo una signora entrò nel camerone come una pazza trompendo la folla era la madre di robetti che aveva mandato a chiamare un'altra signora le corse incontro e le gettò le braccia al collo singhiozzando era la madre del bambino salvato tutte e due si slanciarono nella stanza e su di un grido disperato o giulio mio bambino mio in quel momento si fermò una carrozza davanti alla porta e poco dopo comparva il direttore col ragazzo in brazzo che appoggiava il capo sulla spalla col viso bianco gli occhi chiusi tutti stettero zitti si sentivano i singhiozzi della madre il direttore si arrestò un momento pallido e sollevò un poco il ragazzo con tutte e due le brazza per mostrarlo alla gente e allora maestri maestre parenti ragazzi mormorarono insieme bravo robetti bravo povero bambino e gli mandavano dei baci le maestre e i ragazzi che gli erano intorno gli baciarono le mani e le braccia e gli aperse gli occhi e disse la mia cartella la madre del piccino salvato gliela mostrò piangendo e gli disse te la porto io caro angelo te la porto io e intanto sorreggeva la madre del ferito che si copriva il viso con le mani uscirono adagiarono il ragazzo nella carrozza la carrozza partì e allora rientrammo tutti nella scuola in silenzio il ragazzo calabrese 22 sabato ieri sera mentre il maestro ci dava notizia del povero robetti che dovrà camminare con le stampelle entrò il direttore con un nuovo iscritto un ragazzo di viso molto buono coi capelli neri con gli occhi grandi e neri con le sopracciglia folte raggiunte sulla fronte tutto vestito di scuro con una cintura di barocchino nero intorno alla vita il direttore dopo aver parlato nell'orecchio al maestro se ne uscì lasciandogli accanto il ragazzo che guardava noi con quegli occhioni neri come spaurito allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe voi dovete essere contenti oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a rezzo calabria a più di 500 miglia di qui vogliate bene il vostro fratello venuto di lontano egli è nato in una terra gloriosa che dà dell'italia degli uomini illustri e da dei forti lavoratori e dei bravi soldati in una delle più belle terre della nostra patria dove sono grandi foreste e grandi montagne abitate da un popolo pieno di ingegno di coraggio vogliategli bene in maniera che non si accorga d'essere lontano dalla città dove è nato fateli vedere che un ragazzo italiano in qualunque scuola italiana metta il piede ci trova dei fratelli detto questo salzò e segnò sulla carta murale d'italia il punto dove è reggio di calabria poi chiama forte ernesto de rossi quello che ha sempre il primo premio de rossi salzò vieni qua disse il maestro de rossi uscì dal banco essendo a mettere accanto al tavolino in faccia al calabrese come primo della scuola gli disse il maestro da l'abbraccio del benvenuto in nome di tutta la classe al nuovo compagno l'abbraccio dei figliuoli del piemonte al figliuolo della calabria de rossi abbracciò il calabrese dicendo con la sua voce chiara benvenuto e questi baciò lui sulle guance con impeto tutti batterono le mani silenzio gridò il maestro non si battono le mani in scuola ma si vedeva che era contento anche il calabrese era contento il maestro gli assegnò il posto e lo accompagnò al banco poi disse ancora ricordatevi bene quello che vi dico perché questo fatto possa accadere che un ragazzo calabrese fosse in casa sua a torino e che un ragazzo di torino fosse come a casa propria reggio calabria il nostro paese lottò per 50 anni e 30.000 italiani morirono voi dovete rispettarvi amarvi tutti fra voi ma chi di voi offendesse questo compagno perché non è nato nella nostra provincia si renderebbe indegno di alzare mai più gli occhi da terra quando passa una bandiera tricolore appena il calabrese fu seduto al suo posto i suoi vicini gli regalarono delle penne e una stampa e un altro ragazzo dall'ultimo banco gli mandò un francobollo di svezia i miei compagni 25 martedì il ragazzo che mandò il francobollo al calabrese è quello che mi piace più di tutti si chiama garrone è il più grande della classe a quasi 14 anni la testa grossa le spalle larghe è buono si vede quando sorride ma pare che pensi sempre come un uomo ora ne conosco già molti dei miei compagni un altro mi piace pure che ha nome corretti e porta una maglia color cioccolata e un berretto di pelo di gatto sempre allegro figliolo di un rivenditore di legna che è stato soldato nella guerra del 66 nel quadrato del principe umberto e dicono che ha tre medaglie c'è il piccolo nelli un povero gobbino gracile col viso smunto se n'è uno molto ben vestito che si leva sempre i peluzzi dai panni e si chiama votini nel banco davanti al mio c'è un ragazzo che chiamano il muratorino perché suo padre è muratore una faccia tonda come una mela e un naso a pallottola egli ha un'abilità particolare sa fare il muso di lepre e tutti gli fanno fare il muso di lepre e ridono porta un piccolo cappello a censo che tiene a pallottolato in tasca come un fazzoletto accanto al muratorino c'è garoffi un coso lungo e magro col naso a becco di civetta e gli occhi molto piccoli che traffica sempre con pennini immagini e scatole di fiammiferi e si scrive la lezione sulle unghie per leggerla di nascosto c'è poi un signorino carlo nobis che sembra molto superbo ed è in mezzo a due ragazzi che mi sono simpatici il figliolo di un fabbro ferraio insaccato in una giacchetta che gli arriva al ginocchio pallido che parmalato che ha sempre l'aria spaventata e non ride mai è uno coi capelli rossi che ha un braccio morto e lo porta peso al collo suo padre è andato in america e sua madre va attorno a vendere erbaggi è anche un tipo curioso il mio vicino di sinistra stardi piccolo e tozzo senza collo un grugnone che non parla con nessuno e pare che capisca poco ma sta attento al maestro senza batter palpebra con la fronte corrugata e coi denti stretti e se lo interrogano quando il maestro parla la prima e la seconda volta non risponde la terza volta tira un calcio e ad accanto uno con la faccia tosta e triste uno che si chiama franti che fu già espulso da un'altra sezione ci sono anche due fratelli vestiti uguali e si somigliano a pennello e portano tutte e due un cappello alla calabrese con una penna di fagiano ma il più bello di tutti quello che ha più sanno è dei rossi e il maestro che l'ha già capito lo interroga sempre io però voglio bene a precossi il figlio del fabbro ferraio quello della giacchetta lunga che pare un malatino dicono che suo padre lo batte è molto timido e ogni volta che interroga o tocca qualcuno dice scusami e guarda con gli occhi buoni e tristi ma garrone è il più grande e il più buono un tratto generoso 26 mercoledì e si diede a conoscere appunto questa mattina garrone quando entrai nella scuola un poco tardi che mi aveva fermato la maestra di prima superiore per domandarmi a che ora poteva venire a casa a trovarci il maestro non c'era ancora e tre o quattro ragazzi tormentavano il povero crossi quello dai capelli rossi che ha un braccio morto e sua madre vende ortaggi lo stuzzicavano con le righe gli buttavano in faccia delle scorze di castagna e gli davano dello storpio e del mostro contraffacendolo col suo braccio al collo ed egli tutto solo in fondo al banco smorto stava a sentire guardando ora l'uno ora l'altro con occhi supplichevoli perché lo lasciassero stare ma gli altri sempre più lo beffavano ed egli cominciò a tremare e a farsi rosso dalla rabbia a un tratto franti quella brutta faccia salì su un banco e facendo mostra di portare due cesti sulle braccia scimmiottò la mamma di crossi quando veniva ad aspettare il figliolo alla porta perché ora è malata molti si misero a ridere forte allora crossi perse la testa e afferrato un calamaio glielo scaraventò al capo di tutta forza ma franti fece civetta e il calamaio andò a colpire nel petto il maestro che entrava il maestro pallido salì al tavolino e con voce alterata domandò chi è stato nessuno rispose il maestro gridò un'altra volta alzando ancora la voce chi è allora garrone mosso a pietà del povero crossi si alzò di scatto e disse risolutamente sono io il maestro lo guardò guardò gli scolari stupiti poi disse con voce tranquilla non sei tu e dopo un momento il colpevole non sarà punito si alzi il crossi si alzò e disse piangendo mi picchiavano mi insultavano io ho perso la testa ho tirato siedi disse il maestro si alzino quelli che lo hanno provocato quattro salzarono col capochino voi disse il maestro avete insultato un compagno che non vi provocava schernito un disgraziato percosso un debole che non si può difendere avete commesso una delle azioni più basse più vergognose di cui si possa macchiare una creatura umana bigliacchi detto questo scese tra i banchi mise una mano sotto il mento a garrone che stava col viso basso e fatto gli alzare il viso lo fissò negli occhi e gli disse tu sei un'anima nobile garrone colto il momento morbora non so che parole nell'orecchio al maestro e questi voltatosi verso i quattro colpevoli disse bruscamente vi perdono